Questo è Giovanni che mangia il fish al matrimonio di Mary, secondo me non ci riesce, secondo me non ci riesce, secondo me non ci riesce a mangiare, è la prima volta che ho usato. Non ci riesce a mangiare, è la prima volta che ho usato il fish al matrimonio di Mary, secondo me non ci riesce a mangiare, è la prima volta che ho usato.